Dagli anni 70 l'uomo ha iniziato a consumare regolarmente, quasi ogni anno, più risorse di quante la Terra sia in grado di produrre in 12 mesi. Quest'anno l'Hertover Show decade il 29 luglio, giorno in cui avremo esaurito le risorse che il pianeta ha prodotto nel 2021. Vista da un'altra prospettiva, ciò significa che a partire dal 30 luglio inizieremo ad accumulare un debito verso l'ambiente e verso le generazioni future. Come accade ogni anno, purtroppo. Secondo un semplice calcolo, possiamo anche dire che stiamo consumando le risorse di un pianeta 1,7 volte più grande del nostro. E la cosa peggiore è che non solo attingeremo al capitale naturale che sarebbe altrimenti disponibile per i nostri figli e nipoti, ma genereremo anche più emissioni di anidride carbonica. L'impatto del Covid-19 sull'Hertover Show Day particolarmente preoccupante è che l'Overshow Day, calcolato dall'organizzazione No Profit Global Footprint Network, GFN, è arrivato ogni anno sempre prima dall'inizio degli anni 70. L'unica eccezione è stata nel 2020, quando i blocchi indotti dal Covid-19 hanno ridotto drasticamente l'impronta ecologica dell'umanità. Secondo le stime di GFN, l'impronta globale è diminuita di quasi il 15% nel 2020 rispetto all'anno precedente. Da allora, tuttavia, la tendenza a lungo termine è ripresa ed è tornata al punto in cui era prima della pandemia. Alcune lezioni da non sottovalutare l'esperienza del Covid-19 ha evidenziato una serie di problemi ambientali che hanno aggravato la crisi di salute pubblica e potrebbero anche gettare i semi per future pandemie. Prendiamo l'inquinamento atmosferico, che si stima uccida prematuramente 7 milioni di persone ogni anno. Grazie alle ricerche condotte sulla pandemia, oggi sappiamo che la scarsa qualità dell'aria dovuta all'inquinamento potrebbe aver esacerbato l'impatto della pandemia in diverse zone del pianeta. Diversi studi hanno infatti collegato gli alti livelli di particolato nell'aria e i tassi di mortalità elevati causati dal coronavirus. Altrettanto chiaro dall'esperienza della pandemia, tuttavia, è la velocità con cui l'inquinamento atmosferico può essere ridotto. Quando il traffico aereo e stradale si è fermato e le fabbriche sono state chiuse, la qualità dell'aria è migliorata notevolmente. In Cina, le concentrazioni di particolato, noto anche come PM2,5, sono diminuite fino a un terzo all'inizio di marzo rispetto all'anno precedente. Per cavalcare questi risultati, diverse città come Milano, Londra, New York e Citotol stanno introducendo schemi ambiziosi per incentivare l'adozione di fonti di trasporto più pulite e quartieri pedonali. Ma l'inquinamento atmosferico è solo uno dei tanti problemi ambientali urgenti che la pandemia ha messo a nodo. Un altro tema focale per il futuro della Terra è la biodiversità. Numerosi studi scientifici, tra cui uno della piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, mostrano che la perdita di biodiversità, causata, tra le altre cose, dalla deforestazione, avvicina gli esseri umani. Alla fauna selvatica, il che aumenta le possibilità che i virus di origine animale colpiscano l'uomo. Tutto ciò significa che la salvaguardia della biodiversità sarà probabilmente al centro del dibattito pubblico su come prevenire future pandemie e migliorare la salute della popolazione mondiale. Verso un mondo post-Covid-19 più sostenibile è passato poco più di un anno da quando la pandemia ha innescato severe restrizioni per le attività economiche, che hanno contribuito a ridurre le emissioni di carbonio. Ora la rimozione delle limitazioni e dei lockdown minaccia di mettere ancora una volta l'ambiente sotto estremo stress. Chiaramente, frenare l'attività economica non è una soluzione praticabile, ma serve una trasformazione molto più ambiziosa delle nostre strutture economiche. Gli impegni di arrivare a zero emissioni nette da parte non solo dei governi, ma soprattutto di molte potenti aziende multinazionali, sono sicuramente un buon punto di partenza. Lo stesso vale per il rimodellamento del sistema fiscale globale, che permetterà di prescoraggiare le emissioni di carbonio e incentivare l'adozione di energie rinnovabili. Una tassa globale sul carbonio sarebbe un passo importante nella giusta direzione, perché questa è una sfida che richiede il coinvolgimento di tutti, governi, aziende e persone. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Rue du Fortnieder-Grenwald, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una Offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative. PICTE Asset Management PICTE Asset Management PICTE Asset Management PICTE Asset Management